Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Le sanzioni ci vuole tempo perché mordano realmente? Sì, ci vuole tempo anche se le sanzioni che stiamo adottando, che hanno adottato i paesi europei, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, sono sanzioni che non erano mai state fatte fino adesso, quindi sono sanzioni molto dure. Ci vuole tempo, però indubbiamente ci sono dei dati che fanno riflettere, due su tutti, la decrescita e l'inflazione. Giustamente si notava che l'inflazione pesa soprattutto su chi vive di stipendio e quindi non ha difesa. Inoltre mettiamoci anche il fatto che Mosca dovrà anche finanziare le due repubbliche, cioè i territori annesi che sono devastati. Pensiamo solo a Mariupol che sono devastati, quindi dovrà impegnare risorse e in qualche modo cercare di fare propaganda in quei territori, perché altrimenti rischia ulteriore discredito. Quindi anche questo poi in patria potrebbe avere un peso, nel senso che li andiamo anche ad aiutare. Cioè ci sono, il tema però è un altro, è chi resiste di più. Noi? Mi viene da dire noi o loro, perché c'è un noi e c'è un loro. È anche una guerra di regolamento spaventosa. E quello che dicevo prima, cioè comunque quello è un regime autoritario, non è che hanno il problema delle amministrative del 12 giugno, per cui magari uno si improvvisa di fare un viaggio a Mosca, piuttosto che delle elezioni politiche del 2023. Parlo dell'Italia, ma potrei parlare, abbiamo visto la Francia, che fino a quando non c'è stata l'elezione all'Eliseo, non si è determinato chi avesse vinto, cioè era calato il silenzio su embargo, sanzioni, non si parlava più di nulla. Quindi è evidente che noi già siamo divisi al nostro interno come Europa e come Paese. In più mettiamoci che abbiamo anche degli appuntamenti elettorali sparsi, diversi, non coincidenti. Quindi anche trovare una posizione unitaria. Inoltre ci sono anche degli elementi preoccupanti, tipo il posizionamento di Orban è un elemento preoccupante. Questo vedremo poi anche oggi, perché io, che ho una discreta memoria, ricordo che Borrelle più volte quest'ultima settimana ha annunciato l'accordo sullo stop al petrolio russo. Vedremo stasera? Vedremo stasera, sappiamo che è una mattinata di lavoro dietro le quinte degli ambasciatori dei 27 Paesi, poi vedremo se porteranno un documento di compromesso, se ci sarà nella riunione dei capi di Stato e di Governo che comincia oggi pomeriggio. Allora, andiamo in pubblicità e ripartiamo dalla Corsa.